Canti e balli è la sfilata dei personaggi della Walt Disney. L'ospedale pediatrico Giovanni XXIII ha organizzato con l'ausilio dell'associazione Impegno 95 uno spettacolo di Natale con gli artisti dell'Accademia dello Spettacolo Unica. Un appuntamento di sensibilizzazione e sostegno morale? È un evento, una festa di Natale quindi con spettacoli e doni. Noi lo facciamo tutti gli anni. Questa volta ci sono molti bambini che non sono scesi giù per festeggiare insieme a noi con le loro famiglie la festa di Natale. Però più tardi i nostri volontari dell'associazione andranno nei reparti per consegnare i doni. All'evento che ha visto la partecipazione di Megamark, Vigili del Fuoco, Società Mutuo Soccorso Cesare Pozzo era presente anche la Croce Rossa. Anche Croce Rossa è presente a questo evento? Sì, anche Croce Rossa è presente a questo evento proprio perché siamo ormai a Natale, quasi a Natale e è importante a Natale riavvicinarsi tutti quanti. Questo è un motivo per riavvicinarci e riunirci. Sempre vicine a questo tipo di eventi? È un momento di grande solidarietà. Noi a livello nazionale la manifestiamo anche con le nostre forme di assistenza per le famiglie che hanno bisogno. Tutti quanti possono iscriversi alla nostra società e poter usufruire di tutte quelle integrazioni sanitarie e aiuti sanitari per le famiglie, per i soci e le famiglie. Questo è un momento molto bello dove noi veramente manifestiamo la solidarietà verso i più deboli.